Buonasera e ben trovati a Prato 7, pronti come ogni domenica a ripercorrere i fatti salienti della settimana che si sta concludendo. Cominciamo ovviamente dal telegiornale di lunedì, quando ci siamo occupati dell'iniziativa che si è svolta a Prato, in altre 27 città italiane. Vescovo e il Vice Sindaco Biancalani hanno piantato l'albero della dottrina sociale della Chiesa. In contemporanea con altre 27 città in Italia, a Prato è stato piantato l'albero della dottrina sociale della Chiesa. Presenti a questo gesto simbolico avvenuto nell'area verde davanti alla Chiesa di Santa Maria della Pietà, il Vescovo Giovanni Nerbini e il Vice Sindaco Luigi Biancalani, come segno della reciproca collaborazione tra diocesi e istituzioni cittadine nel raggiungimento del bene comune. L'iniziativa si è svolta in occasione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, giunto alla sua decima edizione, con il titolo Memoria del Futuro. La manifestazione si svolge fino al 27 novembre e per la prima volta sarà in modalità diffusa, con eventi che si terranno in 20 città italiane. La tappa a Toscana è a Pisa, mentre Prato partecipa in segno di vicinanza, vivendo il gesto simbolico di apertura, la piantumazione di un albero di melograno. Questo simbolo ci richiama all'unità, ci richiama alla solidarietà, all'attenzione, alla premura, alla cura. Oggi sentire l'anelito che nessuno manchi del necessario, forse è possibile anche del lavoro, ma in questo momento del pane, dell'indispensabile per vivere, diventa un criterio fondamentale. Il vice sindaco Luigi Biancalani ha sottolineato come in un momento difficile per tutti è importante esprimere solidarietà vera. Mi auguro che questa iniziativa si diffonda sempre di più. Certi valori, ha aggiunto, dobbiamo metterli in pratica, aiutare chi ha bisogno senza distinzione. Prima della benedizione dell'albero, coperto con la terra dal vescovo e dal vice sindaco Muniti di Pala, è stata scoperta una targa, ricordo, con il riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. All'iniziativa era presente la consigliera comunale Sandra Mugnaioni, in rappresentanza degli organizzatori del festival, e Monica Pieraccini del Banco Fiorentino, che ha reso possibile la piantumazione. Passiamo adesso invece a martedì, quando ci siamo occupati di cronaca e del caporalato. In edilizia, ricorderete sei mesi fa, l'operazione Cemento Nero, sono arrivate le prime condanne, tre anni ad uno dei promotori dell'associazione a delinquere. Tre condanne, altrettanti patteggiamenti e sette rinvii a giudizio. Ad appena sei mesi dagli arresti, sono già state definite dal Tribunale alcune posizioni relative all'inchiesta Cemento Nero della Procura di Prato, che ha fatto luce su un sistema di caporalato in edilizia, gravitante attorno alle società Eurocostruzioni 75 e Nova Edil, entrambe SRL. Il destino processuale dei tre legali rappresentanti, ritenuti promotori dell'associazione delinquere, si è separato. Vincenzo Marchio, 45enne crotonese, assistito dall'avvocato Livianati, subentrata recentemente nella difesa, è stato rinviato a giudizio, così come l'egiziano Sabri Ahmed Eid, tuttora latitante, mentre il fratello di quest'ultimo, Saeed Ahmed Eid, assistito dagli avvocati Patrizio Fioravanti e Antonino Denaro, è stato condannato in rito abbreviato a tre anni di reclusione. Altre condanne, sempre dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, rispettivamente a due anni e due mesi e due anni e un mese e dieci giorni, sono arrivate per due cittadini marocchini, i quali erano incaricati della gestione, del trasporto e del controllo degli operai nei cantieri, una trentina, quelli sparsi in Toscana e anche fuori regione, monitorati in oltre due anni dagli inquirenti. Rinviate a giudizio anche le due società, alle quali furono sequestrati beni per 70.000 euro, mentre sono stati ammessi tra le parti civili, oltre ad alcuni operai sfruttati, anche la CGL. Fu proprio il sindacato degli edili della CGL di Firenze a presentare denuncia, dopo aver raccolto la segnalazione di una delle vittime, un operaio che non era stato pagato. Pesanti le condizioni di lavoro imposte, turni fino a 12 ore al giorno, nessun riposo, ferie e contributi negati, il tutto per una paga di 5-6 euro l'ora. Secondo le indagini della polizia, una parte di manovali e muratori venivano ingaggiati totalmente a nero, mentre altri venivano assunti con contratti per un orario inferiore alla mano d'opera svolta. Il procuratore Nicolosi coglie l'occasione per ribadire la necessità di prorogare il piano lavoro sicuro in scadenza del 31 dicembre prossimo. Per il segretario della filea CGL di Firenze, Marco Carletti, i fatti raccontati dall'inchiesta Cemento Nero non sono un caso isolato. E' mercoledì invece ci siamo occupati di Covid e mercato del lavoro perché a Prato da gennaio si sono persi già 1.500 posti e aumentano anche le richieste di reddito di cittadinanza. Gli effetti della pandemia cominciano a farsi sentire sul mercato del lavoro. A Prato in nove mesi da gennaio 2020 si sono persi 1.500 posti, 1.400 su scala annua. E' la fotografia scattata dal terzo rapporto sulla crisi pandemica presentato dal segretario generale della CGL di Prato, Lorenzo Pancini, e dai curatori Enrico Fabri e Dimitri Storai. Nei primi nove mesi dell'anno il numero delle imprese presenti nella provincia di Prato è rimasto sostanzialmente stabile, mentre si è ridotto il numero degli addetti. La crisi sanitaria sta quindi cominciando a produrre i suoi effetti sull'occupazione ed in particolare sull'occupazione dipendente. La dinamica negativa dell'occupazione è particolarmente marcata nei dati relativi ai dipendenti che da gennaio hanno perso 1.443 unità. Le ragioni possono essere diverse dalla contrazione delle assunzioni ai pensionamenti alle mancate proroghe dei contratti a termine. In generale il mercato del lavoro pratese continua ad essere congelato. Quando si dice che il mercato del lavoro pratese è congelato, si fa riferimento al fatto che i movimenti che lo caratterizzano, avviamenti, cessazioni, proroghe, trasformazioni, sono in numero estremamente ridotto. Le aziende si trovano in una situazione di scarsissima fiducia nei confronti di quello che potrà essere il futuro e quindi congelano ogni loro decisione assunzionale. Crescono tutti gli indicatori che denotano un peggioramento nelle condizioni economiche delle famiglie. Ovviamente 15 milioni di ore di ammortizzatori sociali non hanno avuto un effetto neutro sui salari dei lavoratori che si sono ridotti fra il 33 e il 47%. D'altra parte un impoverimento come questo lo possiamo cogliere anche indirettamente dall'aumento delle richieste di reddito di cittadinanza che in particolar modo nel periodo maggio-agosto hanno visto un incremento del 8% rispetto al periodo precedente e anche dall'aumento dell'indennità economica riconosciuta che è passata da 466 a oltre 500 euro. Sempre Covid nel telegiornale di mercoledì ma questa volta più che sull'aspetto economico e lavorativo ci siamo occupati di quello sanitario perché è pronta una task force per velocizzare l'iter di fine quarantena e l'ASL ha detto saremo in pari entro il weekend, abbiamo azzerato i ritardi nel tracciamento. Dopo una lunga rincorsa e il potenziamento dell'organico che ha portato all'apertura di una centrale dedicata, l'ASL si è messa in pari per il tracciamento dei casi positivi al coronavirus. Da oggi quindi il tracciamento sarà simultaneo alla comparsa di un nuovo caso e questo sarà fondamentale per ridurre al minimo i tempi di isolamento o quarantena dei contatti stretti. Ad annunciare il risultato ottenuto dall'ASL è stato il responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Renzo Berti, nel corso del sopralluogo la struttura di Via Lavarone da parte della Commissione Sanità del Comune. Berti ha pure comunicato che adesso la task force operativa si sposterà sui certificati di fine quarantena, provando entro il weekend a smaltire tutte le richieste rimaste in arretrato. Durante il dibattito sono stati spiegati anche i cambiamenti che hanno interessato il Dipartimento di Prevenzione in questi mesi di pandemia. Durante l'estate, tramite un bando dell'Estar, sono stati assunti sei nuovi assistenti sanitari, un intervento che però di fatto non ha potenziato la pianta organica dell'ufficio gene perché è andato a stabilizzare figure già operative in Via Lavarone. Così si è reso necessario cambiare impiego a 50 tecnici della prevenzione, dirottandoli al tracciamento e alla gestione delle quarantene e dei magazzini. L'importante sarebbe però trovare al di là della contingenza emergenziale le condizioni per un effettivo rafforzamento della prevenzione anche in proiezione futura perché troppo spesso la prevenzione diventa importante quando è tardi, quando c'è una tragedia o come in questo caso quando c'è un'emergenza. Bisognerebbe organizzarci perché ci siano le forze necessarie anche a fronteggiarla prima che accada. L'altro fronte caldo in un momento in cui il contagio sembra in fase calante è quello della gestione dell'eventuale terza ondata di Covid ma soprattutto l'organizzazione della campagna vaccinale. Organizzarci adesso per una distribuzione efficace del vaccino alla popolazione. È una partita assolutamente non banale per le quantità, le complessità anche delle vaccinazioni in cui si sente parlare. Abbiamo poco tempo e bisogna farlo bene. Cronaca nel telegiornale di giovedì purtroppo con una tragedia ovvero la morte di un operaio tessile all'interno della propria ditta a Montemurlo. Tragedia sul lavoro a Montemurlo, un operaio tessile morto cadendo dal tetto della ditta per cui lavorava nel ruolo di caporeparto, la torcitura di Domaso in Via Niene. La vittima si chiamava Fulvio Piscitelli, aveva 40 anni e abitava nel comune di Prato. Secondo una prima ricostruzione era salito sul tetto per ispezionarne alcuni punti oggetto di lavori di riparazione. Una volta sulla copertura dell'edificio avrebbe fatto peso sul plexiglass che cedendolo avrebbe fatto cadere. Un volo di 8 metri che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Montemurlo e trattandosi di evento verificatosi sul luogo di lavoro i tecnici della prevenzione dell'ASL. Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, esprime le sue condoglianze alla famiglia dell'operaio. Saranno le indagini delle autorità preposte a ricostruire la dinamica delle accadute ed eventuali responsabilità, continua il sindaco Calamai. Ciò che è certo è che è necessario l'impegno di tutti per rafforzare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Non bisogna abbassare la guardia perché di lavoro non si può morire. Interviene sulla vicenda anche il consigliere comunale pratese del PD, Marco Biagioni. Il lavoro dovrebbe creare autonomia, prospettive comunità, non morte. La sicurezza di lavoratrici e lavoratori deve essere prioritaria. Anche cronaca, nel telegiornale di venerdì, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento a San Giusto, i due abitanti sono stati salvati dall'intervento dei vicini. Tre interventi tra ieri sera e stanotte da parte dei vigili del fuoco per un incendio in appartamento a San Giusto e precedentemente per due episodi di auto in sosta andate in fiamme che potrebbero essere entrambi dolosi. Il primo rogo ha coinvolto un veicolo in via Roma all'altezza dell'ex ippodromo poco prima delle 20. Un'ora e mezzo più tardi una nuova segnalazione di auto in fiamme è giunta ai pompieri da via Bovio all'angolo con via Pomeria. In questo caso, all'arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano completamente avvolto il veicolo e si stavano propagando a quelli vicini. La vettura è andata distrutta, mentre un furgone parcheggiato accanto ha riportato seri danni. Il terzo intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in via dei Gerani a San Giusto dove attorno alle 1.50 di notte si è sprigionato un incendio in un appartamento. Le fiamme sono partite in una camera e il fumo ha poi invaso rapidamente tutti i locali dell'appartamento. All'arrivo delle squadre, gli abitanti, una donna ed il nipote erano già stati fatti uscire dai vicini di casa che hanno sentito le grida e sono riusciti a prestare soccorso prima che fosse troppo tardi. Le due persone sono state poi portate in ospedale per accertamenti sullo stato di intossicazione. Il giovane è stato già dimesso in giornata, mentre la donna è tuttora al Santo Stefano sotto osservazione, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Dopo aver spento l'incendio, grazie all'impiego di tre mezzi, i vigili del fuoco hanno proceduto con le verifiche del caso. Non è stato adottato nessun provvedimento di inagibilità strutturale, ma l'utilizzo dell'appartamento coinvolto dall'incendio per via dei danni provocati dal fumo e dal calore è stato interdetto fino al ripristino delle condizioni igieniche di sicurezza. Ieri, quindi sabato, ci siamo occupati invece del CREAF, dell'ex CREAF che, come sapete, in questi giorni si stanno svolgendo i lavori nel lotto 2 per cercare di far diventare due palazzine ospedali per malati Covid. In un altro lotto, nel lotto 1 invece, si sta lavorando per portare all'interno dell'edificio aziende che lavorano nel settore della tecnologia. Non solo posti Covid nell'area ex CREAF. Mentre proseguono i lavori per la realizzazione della prima tranche di 190 letti da inaugurare entro l'8 dicembre, nel polo di via Galcianese i cantieri vanno avanti anche nel cosiddetto lotto 1. Proprio qui nascerà il centro PAIR, Prato Area Innovazione e Ricerca, un incubatore di imprese di carattere internazionale. A trainare il progetto la società sviluppo toscana, realtà in house della regione, che aveva acquisito l'immobile in accordo strategico con la regione stessa. I contratti già sottoscritti, con l'occupazione di 8 mila metri quadri di spazi su 12 mila totali, consentiranno di far entrare entro la primavera del 2021 le prime due aziende, Eurorail, specializzata nella produzione di pavimentazioni ferroviarie, e SBF, per un totale di circa 70 unità. In particolare SBF, che è l'altra società con la quale abbiamo sottoscritto recentemente un contratto di insediamento, operano nell'attività di progettazione e di ricerca sui treni ad alta velocità. Quindi la relazione fra i due operatori è molto spinta, sia nell'ambito di attività di ricerca, sia nell'ambito di prototipizzazione, sperimentando nuove tecnologie e nuovi materiali. In questo momento noi abbiamo un progetto in essere per sviluppare la pavimentazione dei veicoli ferroviari, dei treni regionali denominati ROC per Trenitalia. Quindi abbiamo un progetto che si evolverà nel prossimo quinquennio, che ci permetterà ovviamente di entrare in produzione, speriamo già all'inizio del prossimo anno, perché siamo stati un po' rallentati dal problema Covid, dal fatto che ovviamente in cantiere abbiamo avuto un po' di ritardi. Lavoro in corso anche per Next Technology Tecnotessile, altro prestigioso nome pronto a scommettere sul CREAF, dove sorgerà tra le altre cose la Casa delle Tecnologie Emergenti, un futuristico percorso per il trasferimento tecnologico nell'ambito della sperimentazione sul 5G. Ovvero degli spazi che metteremo a disposizione sia di imprese private sia della cittadinanza, in quegli spazi si potranno sperimentare le nuove tecnologie 5G, saranno spazi dati gratuitamente a chiunque ne vorrà fare richiesta con dei regolamenti che dovremo ancora impostare. Resta da capire che ne sarà dei restanti 4.000 metri quadri, ora destinati temporaneamente all'emergenza sanitaria e che potrebbero ampliare ulteriormente l'offerta dell'ormai neonato PAIR. E restate con noi perché tra poco andrà in onda una breve meditazione sul tempo dell'Avvento curata dalla pastorale giovanile della Diocesi di Prato, il primo appuntamento di stasera a cura degli scout a Gesci. Bene, con questa notizia termina Prato 7, l'appuntamento ovviamente per domenica alle 20.30 su TV Prato. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.